Insieme al collega che verrà dopo di me mi sono occupata di fare le proposte di itinerari ecoturistici. Diciamo che uno degli obiettivi è stato quello di cercare di coinvolgere in maniera diretta la popolazione e qui frequenta queste zone, sia dal punto di vista turistico ma non solo, alla conoscenza di questi ambienti per poterli quindi apprezzare e vivere in maniera sostenibile. Noi abbiamo appunto studiato nuove proposte e nuove forme di itinerari ecoturistici dove guidare appunto alla scoperta di questi ambienti e fornire anche delle informazioni per riuscire a capire meglio quello che c'è direttamente sul territorio. Non è stato un compito facile perché ci troviamo comunque in un territorio che va a nord da Goro fino a sud alla foce del Rubicone è molto frastagliato, molto ricco, è un territorio che comunque già propone molti itinerari. Quindi noi siamo partiti diciamo in prima istanza facendo una selezione di quali potevano essere i target di riferimento per questi itinerari. Ci siamo orientati verso naturalmente i turisti ma non solo, i cittadini, le famiglie e le scuole. L'altro ruolo che abbiamo avuto è stato quello di, a questo punto avendo selezionato questi tipi di target, verificare quali potevano essere le migliori metodologie per riuscire a coinvolgerli attivamente all'interno di questi eventuali appunto itinerari. Il territorio in questione è compreso prevalentemente all'interno del Parco del Delta del Po, dell'area leader e quindi è un territorio che comunque già possiede numerose opportunità. È ricco di centri visita, di musei dedicati anche a proporre attività come queste. Comunicazione ambientale se ne parla ormai da quasi 40 anni, si è evoluta mano a mano nel corso degli anni e quindi è diventata comunicazione alla sostenibilità perché si è allargata un po' a tutti i temi, non solo quelli prettamente ambientali ma legati anche alla socialità e all'economia. E qual è l'obiettivo della comunicazione? È quello di cercare di sensibilizzare il più possibile i cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali e alla consapevolezza della necessità di essere coinvolti direttamente anche nelle politiche che regolano questi territori. È un modo quindi questo di promuovere dei comportamenti a favore appunto della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. L'esperienza vissuta a contatto con la natura rappresenta quindi uno dei modi migliori per incrementare i livelli di attenzione delle persone verso la tutela della biodiversità e la conservazione dell'ambiente. Questo processo però di conoscenza e responsabilizzazione dei cittadini non avviene solo attraverso una semplice informazione ma anche e soprattutto attraverso l'esperienza diretta, la visione e la frequentazione di questi luoghi in modo che così si riduce la distanza delle persone nei confronti appunto dei temi e si aumenta appunto il livello di sensibilità e di attenzione rispetto ai temi naturalistici ambientali ma anche sociali. Ho fatto una carellata di immagini che fanno capire quello che intendiamo noi come coinvolgimento diretto all'interno di un territorio così diverso come il nostro ci sono tantissime possibilità per godere delle nostre ricchezze. Si parla di mobilità. La mobilità è molto importante. Prima vedevamo un'immagine di persone che erano in bicicletta quindi tutto il discorso del cicloturismo è molto importante. Questa è un'immagine di una cosiddetta mobilità sostenibile perché è una barca elettrica alimentata con pannelli fotovoltaici quindi anche nella individuazione di questi itinerari ecoturistici è molto importante cercare di soffermarsi su quelli che sono i modi in cui ci si deve muovere all'interno di queste aree. L'esperienza diretta, questo è l'esempio per esempio, una fotografia fatta in una parte dei bacini salanti della salina di Cervia in cui si fa sperimentare direttamente alle persone facendoli camminare appunto in una vasca dedicata nel sale. Quindi l'esperienza diretta significa questo, toccare con mano ma non solo quello di cui poi si parla. Per quel che riguarda tutto il grande tema dei nativi ambientali, l'esperienza diretta in natura si fa proprio sul campo, si raccoglie o si diventa dei piccoli osservatori, sperimentatori, quindi si raccolgono campioni, si passeggia, si osserva e si concentra su quello che si trova direttamente in ambiente. Molto importanti sono, come dicevo prima, i centri visita o comunque i musei, quindi dedicare anche dei momenti di approfondimento maggiori con degli esperti nel campo, magari anche prima di un'escursione come abbiamo fatto noi e abbiamo provato a testare durante questo progetto, ci è sembrato molto utile ed è stato molto apprezzato. Naturalmente un percorso ecoturistico non deve essere per forza fatto attraverso un'organizzazione o comunque attraverso delle guide, ma può essere anche liberamente fruibile. Quindi cosa è importante che sia presente? Che ci sia una cartellonistica o comunque che sia a disposizione delle persone che entrano in questi luoghi, quelli in cui si può naturalmente accedere liberamente, delle informazioni che gli aiutano appunto a capire bene di che ambiente si sta parlando, ma soprattutto quali sono le regole da tenere. Ma visto che siamo anche nel tempo delle nuove tecnologie, non solo la cartellonistica, ci sono anche sistemi di georeferenzazione in cui eventualmente con il telefonino, quando uno si trova in una zona protetta, magari gli viene inviato anche un messaggio in cui gli viene detto tu sei qui o comunque ci sono i QR code che si possono trovare per avere maggiori informazioni. Quindi le metodologie, i mezzi ce ne sono tantissimi, basta saperli selezionare adeguatamente e poi sfruttare al meglio. Un'altra metodologia di coinvolgimento dal punto di vista ambientale molto utile è che si sta affermando negli ultimi anni la Citizen Science. Con Citizen Science si intende il complesso di attività o di progetti di ricerca scientifica condotti da scienziati dilettanti o non professionisti. Viene definita anche come partecipazione del pubblico nella ricerca scientifica e diventa specialmente in campo ambientale un far diventare i non esperti parte integrante del processo scientifico. In questa maniera le persone vengono coinvolte, coinvolte proprio praticamente gli si fanno raccogliere anche dei dati. Diciamo che i quattro concetti fondamentali della Citizen Science sono il coinvolgimento dei cittadini in senso lato, quindi turisti ma anche scuole, bambini, un po' tutto. La comprensione, quindi andando a fare questo tipo di monitoraggio uno riesce anche a capire di quali problematiche si sta parlando e quindi si parla di conservazione della natura. Collaborazione, perché poi c'è una collaborazione fra questi, diciamo, i non esperti con invece i scienziati. E un cambiamento. In questa maniera si prende consapevolezza di queste problematiche e quindi probabilmente si produce anche un cambiamento dal punto di vista dei comportamenti. La Citizen Science sta avendo molto successo, i progetti in corso si sono allargati comunque a tantissimi altri ambiti, quindi non solo quelli più prettamente naturalistici, ma si va dall'astrofisica alla medicina, dalla biologia alle neuroscienze, dall'informatica all'astronomia, coinvolgendo persone di tutte le età e di tutte le provenienze. Questo sviluppo naturalmente è stato possibile, ecco perché se ne parla soprattutto adesso, grazie alla diffusione della rete e degli strumenti tecnologici. La scienza fatta dai cittadini quindi può risultare comunque anche un valido aiuto per la ricerca scientifica e per la protezione dell'ambiente, oltre che una metodologia molto importante di coinvolgimento diretta del pubblico. L'area della regione Emilia-Romagna presa in esame, come dicevo, va dal Po di Goro Nord alla foce del fiume Rubicone a Sud, si sovrappone in buona parte con il parco del Delta del Po, Emilia-Romagna e l'area leader. È un territorio vastissimo, di eccezionale valore ecologico ed è considerato tra i più produttivi e più ricchi in biodiversità. Questo perché? Perché si tratta di un paesaggio incredibilmente frastagliato, molto diverso, in cui però si compenetrano anche delle eccellenze artistiche e storiche e grandi zone antropizzate e numerose attività produttive. Il parco del regionale del Delta del Po, come dal punto di vista naturalistico, possiede la più vasta estensione di zone umide e protette d'Italia, è un'area di eccezionale valore ecologico, conserva importantissimi resti del suo passato e numerose testimonianze d'arte e di cultura. Diciamo che è un territorio abitato dal tempo degli Etruschi, poi ci sono stati i Romani, insomma via via troviamo tantissimi monumenti che ci ricordano i bizantini a Ravenna, Ferrara, abbiamo le due grandi città Ferrara e Ravenna, che sono state riconosciute in patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO e poi ci sono tantissimi monumenti, dovunque si vada anche mentre sia in un'area naturalistica si può osservare un faro o si può vedere che ne so una chiusa o diciamo una chiesa, dei ponti, i borghi marinai per esempio anche sono un'altra eccellenza. Mentre per quel che riguarda le attività produttive che non sono secondarie ma anzi molto importanti anche loro, quando appunto ci si trova in questi territori ci troviamo di fronte praticamente a un po' di tutto, allora questo per esempio è un allevamento di cozze, l'allevamento delle vongole, naturalmente a nord, questo è Goro per esempio, le cosze le troviamo sia a nord ma le troviamo a Ravenna, le troviamo anche a Cervia, gli allevamenti sono presenti dovunque, gli stabilimenti manneari sono una caratteristica del nostro territorio, la pesca come diceva Rinaldi, importantissima, l'agricoltura, c'è presente anche l'agricoltura, insomma abbiamo tantissime attività produttive, importante è anche tutta la parte della gastronomia, i vini, la produzione di salumi, i prodotti a chilometro zero, abbiamo un'infinità come dire di opportunità per le persone che comunque si trovano in questi territori, abbiamo il porto di Ravenna per esempio che sia commerciale ma anche marittimo, quindi turistico in cui arrivano anche delle grandi navi con turisti che vengono anche da tutto il mondo.